Nella riunione avvenuta tra balneatori aderenti all'OBA e al Comitato anti-erosione di Alba Adriatica con la Regione Pescara sono state ufficializzate le opere a difesa della costa da finanziari con i fondi strutturali il cui progetto è stato già redatto e che partiranno da Alba Adriatica per arrivare fino al Salinello, seguendo l'unità fisiografica. Fra un po', fra qualche tempo, fra un paio di settimane dovrebbe essere approvata anche la variante al piano di difesa della costa dove viene appunto menzionato che la difesa che si intende fare sul nostro litorale è quella delle barriere emerse che per noi è un dato di fatto importante perché fino ad adesso si parlava soltanto di pennelli perpendicolari che hanno soltanto causato un gran casino, un gran danno che adesso sta davanti agli occhi di tutti. Quindi le tanto attese barriere parallele emersa a difesa del litorale si faranno partendo dalla costa nord di Alba Adriatica. Questo per quanto riguarda il futuro, mentre per la prossima stagione estiva la Regione invierà a stretto giro un team di esperti per valutare lo stato di fatto e le cose da fare nel breve termine. Soprattutto a riguardo di quella che è stata la radente posta a protezione degli stabilimenti qualche mese fa. Adesso loro valuteranno se lasciare dei tratti, se eliminarla, soprattutto tenendo conto della sicurezza per la balneabilità per i fruttori della spiaggia di Alba Adriatica. Dopo di questo penseranno di fare un ripascimento per cercare di far fare la stagione, soprattutto nella zona nord, ai concessionari e chi usufruisce della spiaggia libera. Ovviamente i tempi stringono perché bisogna correre, ormai l'estate possiamo dire quasi alle porte. L'estate è arrivata, noi dobbiamo cominciare a dare disponibilità a chi ci chiama, a chi chiede di avere il servizio di balneabilità d'Alba Adriatica, dobbiamo dare le risposte. Non possiamo aspettare il mese di giugno perché le prenotazioni avvengono prima, come in qualsiasi settore turistico.